Grazie a tutti. I maggiori saggisti e critici letterari che noi abbiamo oggi, che si segnala per una scrittura straordinariamente sorvegliata e per una eccezionalmente intelligente, vorrei dire, mescolanza di acume interpretativo e rigore filologico. Queste sono cose che raramente stanno insieme a questo grado. Questa è la principale ragione per cui lo volevamo oggi. Ha anche una straordinaria storia personale da raccontare, che mi guarderò bene dal raccontare. Voglio solo ricordare due o tre cose. La capacità di scrivere e di muoversi su tanti registri che vanno dalla poesia al teatro alle arti figurative. La capacità di essere contemporaneamente saggista, interprete, storico e scrittore. La capacità, la riflessione sulla traduzione, sul teatro. La capacità di organizzare, di organizzatori di cultura in particolare come direttore di paragone letteratura. Quanto ai suoi libri, non vi faccio una lettura della sua bibliografia che sarebbe troppo lunga. Però vorrei ricordare alcune cose, a cominciare da Penna Papers del 1984, gli scritti servili del 1989, 30 poesie familiari di Giovanni Pascoli, che ricordo anche nell'azione al tema di questa sera. Ricordi tristi e civili del 2001, pianura proibita, che alcuni di noi hanno presentato a Pisa recentemente nel 2002. Una serie che vorrei ricordare in particolare di libri della piccola biblioteca Delfi, dedicata a testi inediti, introvabili o dimenticati, fra cui il giornal di Matilde Manzoni e particolarmente, a me caro, le lettere e scartafacci di Bernard Berenson e Roberto Longhi. E infine questo straordinario Meridiano di Pascoli, due volumi dello straordinario Meridiano di Pascoli, che egli ci ha donato molto recentemente, un libro in cui smontando e rimontando il corpus pascoliano e intendendolo come tale in una totalità che ingloba il Pascoli poeta e quello prosatore, il dantista, ci ha proposto e ci proporrà, ma credo che ne sentiremo parlare da lui subito, un'immagine non solo inedita e in attesa di Pascoli, ma probabilmente vera. Do la parola a Gennaro Meridiano. Grazie, grazie. Sorpasso subito il cerimoniale della gratitudine per le parole che ha detto il professor Settis, troppo rusinghiere questo, va a san dire, nei miei confronti. Non c'è il professor Magrini in sala, perché gli avevo chiesto se poteva portare con sé il primo dei due volumi pascoliani, che non può venire. Quindi qui non c'è un volume, no? Ce l'ha? Se ci avesse il primo volume... Ecco Giacomo, ecco Giacomo. Mi chiedo scusa di questo... Grazie Giacomo, eri stato evocato. No, ma forse ne ha trovato un altro libro. È un altro. Beh, dammi anche il secondo, già che ci siamo. Ti dispiace? No. Scusami Giacomo. Prego. Grazie. Io, ecco, chiedo scusa di questo piccolo contrattempo. Ne esprimo qui anche un certo rammarico, perché so che io sono qui a inaugurare il ciclo dei venerdì organizzato da Salvatore Settis. E per esprimere la mia gratitudine verso di lui, per avermi chiamato qui a parlarvi, in realtà io avrei dovuto, voluto, parlare del libro di Salvatore Settis, di Italia S.P.A., perché è un libro del quale bisognerebbe parlare a lungo. Lo dico senza alcuna piageria, perché le piagerie si giustificano quando si vuole intraprendere una carriera. Io non ho l'età per farlo, quindi mi manca l'obiettivo. Mi manca la materia stessa. È un libro, io voglio dire, che non solo mette a fuoco un problema che, come voi sapete, è oggi in primo piano nelle leggi che si stanno studiando per la conservazione e, ahimè, per l'alienazione del patrimonio culturale italiano. Ma non solo perché è interessante, ma anche perché è inquietante. È inquietante perché i problemi che emergono dalla lettura di queste pagine sono tra i non pochi che ci affliggono nella congiuntura istituzionale e politica che stiamo vivendo. In modo particolare, io non ho letto tutto, se non ne avrei parlato oggi, avrei chiesto a Settis di parlare proprio di questo. Purtroppo ne ho letto solo metà, è in corso la mia lettura, però c'è un capitolo intitolato L'Italia, l'arte e il petrolio, dove si stabilisce una continuità di prese di posizione nei confronti del patrimonio culturale italiano che risale addirittura al ministro Gianni De Michelis, passa attraverso Veltroni e la Melandri e arriva oggi alle prese di posizione di Tremonti. Questo è un capitolo di grandissima importanza. Invito tutti a leggerlo. Il secondo ramarico è che io sono un po' agitato nel parlare di Pasquale perché in questo momento la mia concentrazione va tutta a un intervento chirurgico che devo subire domani mattina alle 8.30 alle cateratte. E allora, ma le cateratte mi dicono tutti che sono uno scherzo, che è una cosa da nulla, e allora passerò a parlare delle cateratte, dell'operazione di cateratte che io ho fatto all'opera del Pasquale, nella speranza che togliendo una impalpabile cortina, le opere del Pasquale potessero risultare, perlomeno in una percentuale attendibile, nuove. non ho mai amato l'opera del Pasquale, lo devo confessare. Ed è molto strano che, sono molto strani i misteri per i quali io, se posso usare questa espressione volgare, me lo sono trovato tra i piedi. Non so neppure io come è stato. Ricordo, rivedo, mi rivedo, scusate, è un antefatto che racconto per spiegare come mai sono arrivato a quest'uomo, a quest'opera. Essendo questa antologia più una morfologia che è un'antologia, è uno studio delle forme che ha assunto di volta in volta l'espressione sia in prosa sia in versi del Pasquale, sia quella italiana sia quella latina. Mi rivedo una trentina di anni fa, no di più, mezzo secolo fa, 50 anni fa, doveva essere del 52. Mi rivedo in una sala della banca commerciale della piazza Santi Apostoli a Roma, dove ero stato convocato da un terzetto di luminari, da Natalino Sapegno, da Contini e da Schiaffini e soprattutto da un quarto luminare in tutti i sensi, da Raffaele Mattioli, i quali varavano allora la storia della letteratura italiana, storia e testi, edita da Ricciardi. E questo quartetto, insigne, convocò me e un giovane che poi avrebbe dato molta prova di sé, e Pietro citati. E fu anzi citati a telefonarmi a dirmi, guarda, che ha fatto questo colloquio, e insomma decretarono che l'antologia relativa agli scritti di D'Annunzio sarebbe stata fatta da citati, quella relativa al Pasquale sarebbe stata fatta da me. Io arrivai, citati mi guardò malissimo perché avevo le scarpe impolverate, ma il risultato fu che prendemmo accordi, furono stesi i contratti, ma io non feci mai l'antologia del Pasquale, e citati, non fece mai quella di D'Annunzio. Passò il tempo. Un giorno, mi pare appunto 30 anni e non 50 anni fa, un dirigente editoriale che era il poeta che tutti voi conoscete, Vittorio Sereni, si industriò a creare una collana destituita di qualunque possibilità di successo. Era un ciclo di audiolibri. si provavano allora, si facevano dei tentativi di varare un certo tipo di cassette acustiche, e lui mi chiese di fargli un Pasquale. E io gli feci un Pasquale a spettacolo acustico che gli piacque, piacque moltissimo, e mi disse, ma tu mi devi fare un meridiano Pasquale. Io, così, un po' per inerzia, firmai questo contratto. Questo contratto varcò gli anni, i decenni, e a un certo punto salto fuori. Io cominciai a lavorarci, ma scrissi un... cominciai a lavorarci. Questo è il punto. Cioè, cominciai a lavorarci. Era il 1979. Io mi ero... avevo lasciato Roma, era un anno dopo l'omicidio di Moro. Io avevo lasciato Roma nell'anno in cui fu ucciso Moro e mi ero trasferito in una casa di campagna che avevano i miei genitori, i quali erano già morti entrambi, nella valle di Camaiore. E a un certo punto, quando si sartò fuori di questa storia, di questo contratto che viveva negli archivi, che giaceva negli archivi della Mondadori, andai a Castelvecchio Pascoli. a vedere di che si trattava. Lo spettacolo fu sensazionale, perché tutto quello che io sapevo di Pascoli, e un po' ne sapevo, perché venivo da un'università fatta con un certo scrupolo, tutto quello che sapevo di Pascoli si infranse, di fronte a un mare cartaceo, un oceano cartaceo, a una selva di cartigli, autografi, che la sorella di Pascoli aveva conservato nel suo studio. Una mappa autografa che rappresentava un'immagine alternativa rispetto a quello che io avevo letto a stampa di Pascoli più o meno fino al 1898-900, cioè agli ultimi anni dell'Ottocento. Dopodiché, dal 1900 in poi, la mappa autografa, se sovrapposta alle stampe pascoliane, risultava più o meno, insomma, presentava una certa equivalenza. Anzi, quello che Pascoli aveva stampato a partire dal 1900 corrispondeva ai testimoni autografi. Ma fino al 1897-98, più o meno fino alla stesura di quelli che diventeranno poi i poemetti 1900, che sono una raccolta molto difforme dai poemetti del 1897 e dai primi poemetti del 1904, tutto questo periodo, in tutto questo periodo, questa mappa di cartigli forniva un'immagine di Pascoli che mi dava delle notizie completamente diverse su quest'opera. la cosa mi incuriosì, ma mi incuriosì soprattutto un fatto. In quel piccolo e malaugurato, ma anche simpatico, audiolibro, io avevo lasciato cadere una frasuccia recitata da un attore che impersonava Pascoli e diceva di se stesso, io non sono potuto crescere. Era una frasuccia mia che mettevo in bocca a Pascoli tracciandone così dall'esterno un ritratto. Frugando in questo mare di cartigli, in questo oceano di cartigli, mi imbatto in un testimone autografo di una delle più belle poesie di Pascoli, le quartine di Casa Mia, il quarto testo del ritorno a San Mauro, e nei cartigli preparatori di questa serie di quartine c'è una prosetta quasi indecifrabile, dove si legge, io non sono potuto crescere. Allora, era una coincidenza naturalmente, però la coincidenza creò una suggestione abbastanza forte e mi misi a studiare tutti i testimoni autografi di Pasqua. Cosa saltò fuori? Che dal 1875, quando il Pasquoli aveva vent'anni, fino al 1882, più o meno, quando il Pasquoli si laurea, con una tesi su Alceo, e si dispone a partire professore di liceo al liceo Duni di Matera, in quel segmento che coincide con una vita universitaria di studente fuoricorso, disperato, affamato, mendicante, ribelle, preso dalla polizia e messo in prigione perché ha partecipato ai tumulti, che era amico di Andrea Costa. In questo periodo ci si trova di fronte a un giovane che viene dalla provincia, che viene da San Mauro, dalla Romagna, e arriva a frequentare le elezioni di Carducci, ed è vivissimo di testa e di ingegno. Non sa chi è, non sa per chi scriva, conosce perfettamente il latino, è visitato costantemente dalla genialità. Legge un filosofo evoluzionista, Hartman, e ne trae disegni e interpretazioni di tutta la storia del mondo. Legge, sulle orme di Carducci, del Satana di Carducci, la sorciere di Michelet. La sorciere di Michelet è un testo chiave in questo periodo del Pasco, perché Pasco li ricostruisce, a parte che vi costruisce sopra delle saffiche e dei testi in poesia, che in gran parte sono stati o pubblicati senza decifrarli, senza farli capire, senza commento da parte della sorella, in un libro in qualche modo benemerito, ma anche molto discutibile, come le poesie varie del Pasquale, questo ragazzo è pieno di entusiasmi culturali, è ricchissimo di testa, si fa delle domande, e i metri, i versi, le poesie che scrive sono di tutto rispetto. Sono poesie di un giovane che comincia a esistere nella cultura e nella letteratura, ma sono di tutto rispetto. Di questo materiale autografo ricchissimo, quando io cominciai a frequentare la Casa del Pasquale a Castelvecchio, era stata pubblicata una minima parte dalla sorella Maria. Gli altri testi erano in gran parte inediti. Io rimasi abbastanza sconcertato da questo incontro. Avevo frequentato dei codici, naturalmente, nella mia vita di studente e di studioso, ma non mi ero mai imbattuto in una... non c'è poeta o non c'è scrittore. Naturalmente non tutti i poeti possono vantare una sorella che tiene conto anche del piccolo bigliettino dietro cui c'è un distico o un ottonario o un novenario. Insomma, c'era un oceano di testimoni autografi che litigavano con le stampe. E la pubblicazione di questo corpus forma la prima parte di questa antologia che si può definire divisa in sette segmenti. Il primo segmento sono le poesie giovanili. Le poesie giovanili finiscono più o meno nel 1882. Nel 1882 questo giovane poeta, pieno di entusiasmi leggevole. Leggeva anche gli articoli che concernevano Schopenhauer, Leopardi, c'è un articolo del Carot, importantissimo, proprio su Schopenhauer e Leopardi, e leggeva e lesse soprattutto quel saggio di Heine, ben noto, Le Die an Exile, pubblicato sulla Revue du De Monde e in anticipo sulla Sorcière di Michelin. E in analogia con Le Colpe Yen di Baudelaire, dove si teorizza la rinascita di Pan. Un tema che conquistò la fantasia e la mente di Pascoli a quel tempo. che succede dopo questo periodo di voracità culturale, di dissipazione esistenziale, di miseria, di fame? Questo ragazzo che ha circa 28 anni si mette su famiglia, come spesso succede ai giovani che sono appena laureati. E il tema coniugale è un tema che si incontra molto spesso. Il fantasma femminile occupa parecchi di questi testi inediti, giovanili. Si accasa, si sposa, ma si sposa con due sorelle, che incontra queste due sorelle che stavano in convento e gli piglia, non si sa per quale ragione, forse per una sorta di narcisismo morale, di generosità in cui specchiarsi, o per il fatto di essere sempre vissuto da solo, senza appoggi. È un senza famiglia. e ce l'ha. C'ha due sorelle al convento di Sant'Arcangelo di Romagna, Sogliano, Rubicone, e decide di portarsene in casa. Sono due ragazze, due romagnole, giovani, sode, tra i 16 e i 18 anni, che non desiderano altro che lasciare il convento. Questo fratello mitico le porta a vivere a massa dove ci sono gli aranci e costruisce una famiglia. È un sogno straordinario, che non ha nulla, ma se volete si può anche chiamarlo un incesto sublimato, comunque un incesto mistico. Perché è inutile stare a frugare nella psicologia di questi rapporti interfamiliari del Pascoli. Il Pascoli aveva bisogno di una famiglia, la trovò con queste due sorelle e inventò il nido. Inventò. Fece questa costruzione degna di un poeta impraticabile, invivibile, perché ciascuno recitava tutti i ruoli che permette una famiglia. Il Pascoli era sposo, fratello, marito, figlio, le sorelle erano spose, madri, sorelle, figli. Tutti recitavano tutti i ruoli e tutti giocavano a cominciare la vita e a inventarsi la vita. Sogno sublime, mistico e profondamente perverso, meravigliosamente perverso. Questo tema misticamente incestuoso ha valore soprattutto perché in queste due sorelle sorelle così giovani, il bello giovane che era Giovanni Pascoli, bellissimo, capelli biondi a riccioli che gli cadevano sulle spalle come un teenager di qualche anno fa, di qualche decennio fa, hanno una grande importanza perché tutto quello che fino allora aveva scritto Giovanni Pascoli non aveva destinatari. Era scritto sul davanzare della finestra. Lo stesso poeta non sapeva né perché parlasse né a chi parlasse. Come porta in casa queste due sorelle, il giovane Pascoli trova un pubblico. Incontra un pubblico e soprattutto imposta la propria voce sulla frequenza che poi diventerà costante. scrive Virginibus Puerisque, come dice il famoso epigramma di Marziale, Marziale si rivolge a uno che lo aveva attaccato perché scriveva di porcherie e dice sì è vero io scrivo di queste cose e tu fai quello che ti pare, scrivi pure Virginibus Puerisque con disprezzo. Pascoli prende questa espressione e ne fa il proprio programma. Questo secondo segmento è rappresentato in questa antologia dal settore delle poesie familiari. Poesie che si scrivevano, ne scrivevano anche le sorelle, che si scrivevano i tre fratelli Pascoli in questo nido dove si respirava solo l'ossigeno che partiva dalla famiglia. Non arrivava nulla dall'esterno. Era un sistema chiuso. Era una famiglia completamente chiusa. Intanto il Pascoli scrive per coloro che invece si sposano con sogni meno sublimi e perversi. Riempie di opuscoli nuziali dei fascicoletti e dei quadernetti che noi ritroveremo nelle Mirice. La storia del nido dura per tutto il tempo in cui il Pascoli pubblica le diverse edizioni delle Mirice. Questo è un altro punto dal quale io sono partito. Noi conosciamo le Mirice le leggiamo nella loro versione e di solito si dice che esistono delle edizioni precedenti alle quali si rimanda rappresentate dalla prima edizione non venale che è un opuscolo per nozze manco a dirlo. Mirice del 1891. La seconda edizione che è del 1892. La terza del 1894. La quarta del 1897. La quinta del 1900. Ma non sono edizioni consecutive diverse di uno stesso libro. Sono libri diversi. ciascuna di queste Mirice è un libro, una raccolta di poesie che presenta una tematica, un parco metrico, un sistema di interessi che non è quello dell'edizione precedente. E questo io ho voluto rappresentare nel terzo segmento di questo libro, che è fatto di una scelta da tutte le edizioni delle Mirice considerate come raccolte a sé stanti. Quindi le poesie che io ho pubblicato sono i testi poetici delle Mirice riportati, ricondotti alla lezione originaria. Naturalmente segnalando in nota le varianti successive fino alla definizione del testo definitivo, più o meno definitivo del 1900 e poi del 1903. questo significa, e me ne rendo conto, un arbitrio, un sopruso, una violazione di quello che il Pasquale ha voluto. Perché io ho smontato le Mirice, le ho disarrollate, io le ho rappresentate, ma credo di avere dimostrato che le potevo rappresentare perché ciascuna di queste edizioni ci fornisce una raccolta di testi completamente diversi. Non solo. Ma se si leggono le diverse raccolte, i testi poetici che noi leggiamo nell'edizione definitiva pigliano un altro colore, un altro significato, un altro valore. Ci dicono delle cose, se rappresentate a seconda degli anni in cui sono state scritte, quindi nella loro lezione originaria, diverso da quello che ci appare se noi leggiamo nell'edizione definitiva. È come se al di là di una serie di quadri che io ho davanti agli occhi, io potessi scrostare l'ultima mano di pittura e arrivare a vedere che cosa c'era dietro. E allora, cosa si vede dietro? Si vede dietro che le Mirice raccontano in sei edizioni diverse la storia del Nido. La storia di un sogno che si è dissolto quando il Pascoli aveva 40 anni, si è dissolto in termini drammatici e tragici, perché una delle due sorelle risponde al dichiamo elementare della vita, cioè al dichiamo dell'amore e del sesso, e si sposa. Così facendo infrange un patto mistico, il patto mistico che i tre fratelli Pascoli avevano firmato insieme. Pascoli ha 40 anni. Che fa? Lo dice lui stesso. Muore. Muore. Muore per usare un'espressione pascoliana misticamente. L'ultima, l'ultimo testo in quartine, un testo dimesso, elementare, in indecasillabi, intitolato non a caso Ultimo sogno, nel 1897, cioè dopo l'edizione del 1894, di Pascoli lo sposta dal terz'ultimo posto della raccolta all'ultimo. Cioè ha capito che le milice non possono terminare, come in precedenza, con una poesia intitolata Il Cammino, perché non c'è più nessun cammino da compiere. La vita è finita. Lo intitola Ultimo sogno. E questo testo recita un immoto fragor di carriaggi moventi verso l'infinito. Era spirato il nembo del mio male in un alito. Ero guarito. Allora, la morte è una guarigione. La vita è un morbo. questo tema del suicidio mistico e della morte mistica. Il Pascoli non si limita a poetizzarlo per sé. Ma uccide anche colei, il Pascoli uccide anche colei, che era stata la fonte del sogno. C'è una saffica intitolata Crisantemi, dove si immagina che una ragazza venga sotterrata, ma ve la leggo. È una saffica che va a letta. Chiedo scusa, ma le caterate impongono che io non vedo nulla. Non vedo né con questi occhiali né con gli altri. Allora, scusate, ma ora... Dunque... Sì, 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 è qua. Dovrebbe essere qua. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sarebbe bello che non ci fossi. Ecco la cosa, 1147. Sì, sì. Questa poesia in qualche modo si connette al tema dei fiori velenosi. È il tema di Suor Virginia di Puccini. E presenta anche qualche analogia musicale con Suor Virginia di Puccini, nel senso che ci sono dei ritmi e delle movenze che vanno all'incontrario. Cioè, mentre un motivo corre in un senso, ce n'è un altro, come l'accompagnamento al pianoforte, che corre in un altro. Ed è una saffica rigorosamente costruita secondo il modello classico. Vale a dire, Pasquali rifà l'endecasillabo classico come in Solon, partendo da due trochei iniziali, inserendo il dattilo al centro e di nuovo due trochei alla fine del verso. Quindi riproponendo lo stesso modello saffico, nella sua idea che si possa ricostruire il metro classico attraverso gli ictus volgari contro le barbare di Carducci. Questa saffica è scritta un anno dopo che il nido si è sfasciato. Ed è, non è mai stata pubblicata dal Pasquali se non su rivista. È stata poi pubblicata nell'edizione postuma di Odi e Inni nel 1913. È una saffica a cui in genere non si dà grande importanza. Chi secondo me l'ha capito è stato un professore che mi pare abbia insegnato a Pisa, che era invaso e ossessionato dal tema incestuoso, ma forse lo considerava troppo carnalmente, quindi la sua interpretazione sbanda. Si chiamava Pieretti. Però poi non ne ho più sentito parlare. dove sono quelle viole dove l'appendice tutta odorata al sole, dove bianche nuvole erranti, dove quelle viole, quel rosaio dove era dunque, dove l'orto chiuso tutto ronzì la sera, dove nero stormo fuggente, dove 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 era. Nubi vanno, fuggono storie, foglie passano in un empito. Via, ti pianto. Tutti i fiori sono ora là. Li accoglie quel camposanto. hanno tinte come di occasi e hanno un sentore di opacità notturna, lieve, e hanno petali che vedranno, uno, urna per urna, tutto il chiuso, bello, così da quando vennevi una. Dopo aver colte al sole tutte quelle quelle rose, cantarellando, quelle viole. Allora, da notare che con un colpo di genio, crisantemi, compaiono solo nel titolo. Allora, che cosa sono questi fiori raccolti da una? Allora qui si dice che gli anni del nido sono stati anni sciupati, andati dispersi, vissuti cantarellando, raccogliendo quelle rose, e quelle viole, notare che le mette insieme le rose e le viole, diversamente dalle osservazioni che il Pasquale fa tante volte sul come usare i nomi delle piante, i nomi veracemente botanici, in polemica col mazzolin di rose e di viole del sabato del pillaggio. Allora, qui si consuma un'altra morte, perché vennevi una che il Pasquale con grande fermezza ha chiuso con il passato del nido, si è ucciso e provvede in questa saffica a uccidere anche la sorella. Suicidio mistico, omicidio mistico. Siamo nel 1996, due anni dopo l'omicidio mistico sarà quello di Rachele, in digitale purpurea. E il suicidio mistico nel 1895, un anno dopo l'ultimo sogno di Mirice, dove c'è la morte come guarigione, e un anno prima di Crisantene, la morte mistica occupa tutta la saffica recitata dalla donna di Eresso in Solon, dove il Pascoli utilizza due frammenti di saffo. Splende al plenilunio l'orto e il melo, di nuovo due trochei, dattilo centrale, due trochei terminali. Pascoli utilizza due frammenti di saffo dove, guarda caso, manca l'elemento centrale della versione che ne fa Pascoli, l'orto. L'orto in saffo non c'è. Pascoli copia i frammenti di saffo, li manipola, li riorganizza, ma ci mette l'orto, che in saffo è ovvio che non c'è. L'orto, l'ottocentesco, l'orto appartiene all'immaginario pascoliano. L'avete sentito ora? L'orto, tutto chiuso, ronzì la sera. L'orto è sinonimo di nido. Allora, Solon dichiara la stessa morte dichiarata alla fine delle Mirice e dichiarata in Crisantene. Sono gli stessi anni. Di lì a due anni la morte sarà quella di Rachele, in digitale purpurea. Passano ancora due anni e nel 1900 la morte mistica verrà identificata dal Pascoli nel passaggio dell'Acheronte nella Divina Commedia. Dice Pascoli che il poema dantesco va letto come un'Iliade del Cristianesi, perché è il poema dei battezzati senza effetto. Dante, per passare dalla vita attiva alla vita contemplativa, deve morire alla morte, rappresentata dal peccato originale. E per morire alla morte deve passare l'Acheronte. Passare l'Acheronte vuol dire morire. A questo punto Pascoli ha già creato un rapporto di immedesimazione tra se stesso e il poema dantesco. Questo avviene a partire dal 1900. Si possono leggere gli scritti danteschi, che sono qui largamente rappresentati nel secondo tomo, come un'autoanalisi. Del resto siamo in tempi freudiani, 1900. Pascoli era costantemente visitato dalla genialità. Si è inventato un Dante a Liglieri a suo uso e consumo. Nulla probabilmente di quello che dice il Pascoli intorno a Dante è attendibile. Però ha una capacità di suggestione assolutamente straordinaria. La lettura che fa il Pascoli di Dante è un'autoanalisi condotta davanti a uno specchio, in termini al tempo stesso ciechi e veggenti. Dante serve al Pascoli per interpretare e decifrare se stesso e nello stesso tempo gli dà lo strumento per rimuovere completamente la tematica di cui lui è stato portatore. Vale a dire, attraverso la lettura del poema dantesco, Dante Pascoli si rivela a se stesso e si occulta. E così facendo occulta tutto quello che avevano raccontato le mirice. La storia del nido che è leggibile. Faccio un esempio. Andiamo a leggere una poesia come Il nido. E' una poesia che si incontra nelle mirice. Dove sta? Allora. E' un opuscolo nuziale. Eccolo qua. 685. 685. Ho finito, tra un momento ho finito. 685. Oddio mio. 685. 685. Grazie. E' un testo del 1889. Il 1889, il Pascoli è già a Livorno, questo incesto mistico, questa famiglia mistica che ha creato insieme alle sorelle, si sta sfasciando. Si sta sfasciando perché è un legame coniugale, è un matrimonio dove manca l'elemento carnale. Ora, Pascoli, nella sua visionarietà, ha cercato di fondare una famiglia sulla carne dei morti, ma la carne dei morti non c'è. Ci vuole un'altra carnalità perché esistano i matrimoni e le famiglie. Nel 1889 il nido si stava già inclinando, si stava già sfasciando. E... adesso l'ho perso. Dunque, dal selvaggio rosaio scheletrito, penzola un nido. Come a primavera ne prorompeva impiendo la riviera il cinguettio del garrulo convito. In crisantemi il nido era rappresentato dai fiori, qui dagli uccelletti. Or vi è sola una piuma che all'invito del vento esita, palpita leggera, Qual sogno antico in anima severa, fuggente sempre e non ancor fuggito. E già l'occhio dal cielo al fin si toglie, grave dal ciel deserto, Ove un concento vania fiorendo come una stellaria, E s'affiggia alla terra in cui le foglie putride stanno, Mentre aonde il vento piange nella campagna solitaria. Allora, morte del nido, le foglie putride. E cosa significa questo distico? Qual sogno antico in anima severa, Fuggente sempre e non ancor fuggito. Il nido sta morendo. La piuma solitaria è chi sta scrivendo questo sonetto. Se noi lo leggiamo nel luogo, nella sede, nell'anno, nell'ora in cui fu scritto, E lo leggiamo nella versione originale, Noi lo capiamo e lo decifriamo. Ed è il frammento di un romanzo che si compie in tutto l'argo delle mirice. Ma se noi lo leggiamo nelle edizioni successive, Cioè nelle mirice del 1894 e in cui è del 1897, Il nido è un sonetto che viene messo insieme ad altri testi, Sonetti o Madrigali o Strambotti, Prima in una sezione chiamata Inverno, Che in qualche modo ripete la sede originaria, E ci fa ancora capire e decifrare che qui si sta svolgendo un romanzo, Ma nell'edizione del 1897, Che è una raccolta diversissima da tutte le altre, Perché bastano pochi frammenti in più o in meno Per farcela apparire diversa, Il nido è catalogato in una sezione dal titolo Tristezza. Tristezza è un corno, Le tristezze sono generiche, Questa è una cosa estremamente precisa, Che ha una funzione romanzesca. Quindi, viste di edizione in edizione, Le raccolte delle mirice raccontano un romanzo. Questo è un dato di fatto. Eravamo arrivati alla morte mistica, La interpretazione di se stesso allo specchio di Dante che fa il Pascoli, Segue, poi ho finito, Segue di qualche anno Un'altra ossessione da cui fu visitato il Pascoli, Che ha un aspetto di grande interesse letterario, Ma ha anche un aspetto comico. Perché un giorno, a Francavilla, al mare, D'Annunzio, che stava allora scrivendo La città morta, Una bruttissima tragedia, E scrisse al Pascoli Un bigliettino, Così, se l'ha svegliato una mattina, E gli dice, Senti, come tradurresti tu I cori dell'antigone di Sofocle? Perché lui aveva bisogno Di mettere dei cori in questa tragedia. Apriti cielo. Il Pascoli riceve questo biglietto, Le mani tra i capelli, Che cosa ha in mente D'Annunzio? Cosa sta facendo? Perché i cori dell'antigone? La lirica pindarico-corale, Stesicoro, Bacchilide, Si mette in effervescenza, Scrive al De Bosis, Cosa sta facendo D'Annunzio? Dimmi, eh, i poemi, i corali, i canzzi, Insomma, di punto in bianco, Vuole precedere D'Annunzio E manda alla tribuna Un testo che rifà la lirica pindarico-corale, Testo di grandissima importanza Nella storia delle forme pascoliane, Inno funebre ad Antonio Fratti, Il gariballino morto in tessaglia Nella sfortunata impresa, Capitanata da Ricciotti gariballi. Allora, L'inno funebre ad Antonio Fratti Inaugura la serie Delle odi e degli inni pascoliani, Perché Pascoli ha convogliato La sua produzione In tante raccolte diverse, Ma le poesie risalgono a molto prima Di quando lui ha raccolto i suoi testi. Per cui, Il paesaggio che descrive La produzione pascoliana Al di fuori Delle poesie complete Edite dal Pasquale E dalla Zanichelli Insieme è un paesaggio Completamente eterogeneo Rispetto a quello delle stampe. La lirica pindarico-corale Al quale Pascoli si dedica Più o meno negli anni Tra il 97 Fino al 1906 Ma soprattutto negli anni Della fine del secolo Produce un meccanismo Di grande interesse. Perché Da una parte Pascoli Celebra le vicende eroiche Di tutto il grebaldinismo Il risorgimento Mazzini Il Duca degli Ambrucci Umberto Più ne ha più ne metta Con una Con una Creando una sorta di modello stilistico Che ha una Che presenta Una vincente analogia Con le copertine Della Domenica del Corriere Disegnate Da Beltrano Che hanno Qualcosa di pindarico Perché sono al tempo stesso Eroiche Civili Il decesso di Verdi Il traforo del massiccio alpino Il freius Il ritorno delle cederi di Colombo E la Domenica del Corriere Verseggiata In termini Di Di lirica Corale Pindarica E questo Se non che Pascoli non si ferma qui Perché Pascoli era un uomo di cattivo gusto Ma In qualche modo Veramente era un uomo geniale Che fa? Capisce Che se lui Che se lui Si permette Una giunzione Tra lo schema Classico Dell'inno Secondo Strofe Antistrofe Epodo Cioè proprio quello Che D'Annunzio gli chiedeva Ignaro di quello che avrebbe fatto succedere Da Francavilla al mare Se si giunge All'aggiunzione Di questo modello Pindarico Corale Con Il terra-terra Georgico Con la campagna Con i lavori Della ratura E della semina E con L'Orazio Con un Orazio Che stia Non un Virgilio Un Orazio Che stia A Castelvecchio Si può fare Una poesia Di tipo Assolutamente Nuovo E Pascoli La fa E le dà un nome L'eroico Contadino L'eroico Familiare Per fare questo Tanti di Castelvecchio Nascono da questa Giunzione L'ideale Poetico Dell'eroico Contadino Sarebbero stati Un libro Straordinario Tutto Tutto meteorologico Variare Delle stagioni La primavera L'estate L'autunno L'inverno Ritorno La primavera Se Pascoli Non ci avesse Aggiunto In coda Il cosiddetto Romanzo Familiare Vale a dire Tutti i ricordi Connessi Alla tragedia Paterna Tragedia Surrettizia Che scoppia Tardi E usurpa Il posto Della Autentica Tragedia Pascoliana Che è il passaggio Dal nido Alla morte Mistica Pascoli Muore Muore Quando si sfascia Il nido E l'uomo Che creerà Nel 1903 Le poesie Di Giovanni Pascoli Secondo La stampa Definitiva Non è Quello Che noi Leggiamo Nelle stampa Dietro Pascoli Ce n'è un altro Io sono andato A caccia Di quest'altro Questo mi è successo E la difficoltà Di questo libro È stata Di mettere Insieme Due tempi Convergenti È difficile Spiegare L'intoppo Che ho dovuto Superare Perché i libri Hanno un tempo Io Per dirvi Per spiegare Che cosa è stata La concorrenza Di tempi Nella fabbrica Di questo libro Userò Poi veramente Ho concluso Un Userò Un Una metafora Scacchistica Non so quanti di voi Qui conoscano Gli scacchi O abbiamo giocato A scacchi Però Quando si gioca A scacchi Il tempo Si accumula La tensione Della partita È tale Che Il tempo Fa massa Si ingorga È tutto lì E sembra Che la partita Sia fatta Di tempo Per pensare Per vedere Che cosa fa Come rispondere Se noi Prendiamo La stessa partita E la riepiloghiamo Una volta che è finita Con le mosse Il tempo È un fiat Dura qualche secondo La differenza Tra i due tempi È impressionante Per uno Che abbia giocato La partita È come Se avesse passato Un intero pomeriggio Immerso In quella partita E se la rifai La riepiloga La rifai In due balletti E la partita Fugge E scorre via Allora Io mi sono trovato Di fronte A questi due tempi Nel senso che Mi sono trovato Di fronte A una mappa Labirintica Perché Entrare in Pascoli Significa Entrare In un labirinto Appiscido E appiccicaticcio In viscere Nelle quali Ci si Disperde Ci si perde E Ho cercato Di Far diventare Questa mappa Labirintica Attraverso Le sue infinite Combinazioni Perché Questi due Tomi Sono insieme Un libro Combinatorio Dove Ogni elemento Si accorda Con quell'altro L'ho fatta Diventare Una Come si può dire Una Rivisitazione Velocissima E soprattutto Di grande Semplificazione Tutto ciò Che è In questi due Tomi È estremamente Complicato E tutto È semplicissimo È una cosa Che è uno scheletro Che si Disarticola Questo Io ho cercato Di fare Di Decifrare Al di là Di Pasquale Una Una Personalità Poetica Che Ha rappresentato Se stesso Come Il personaggio Fantasma Della propria Produzione Poetica Alle volte Anche Consapevolmente Conoscere Vascoli Vuol dire Imbattersi In un fenomeno Di cultura Italiana Che non ha Precedenti E Non ha Eredi Ha Eredi Nel senso Della Tecnica Poetica Nel senso Che Pasquale Ha inventato Tutto quello Che poi È stato fatto Nel novecento In poesia Ma Come Vero Erede E scusate Se qui Sono paradossale Forse troppo Provocatore Il Pasquale Ha avuto Un solo Vero Erede Che però È mancato Il fascismo La cultura Del Pasquale Così come si è Determinata A partire Dal momento In cui Il Pasquale Si è sentito Un leader Del popolo italiano L'espressione non è mia Ma è di Antonio Gramsci Un leader Del popolo italiano Uno che parla Al popolo Virginibus Poirisque Ma anche al popolo italiano La cultura Di questo Pasquale Che non è quella Giovanile Europea Che divorava Sulle pagine Della Revue Un'opera di genio A suo modo Un'opera di genio Questa Cultura È quella Di un italiano Di grande ingegno Di un ragazzo italiano Che ha studiato Dagli Scolopi Che sa Il latino Meglio Dell'italiano Che scrive Il latino Meglio Dell'italiano Perché Il latino È una grammatica E l'italiano È una lingua Che non si sa Che cos'è Ed è trattabile Solo in poesia Perché Scrivere in prosa In italiano È molto Argo Molto difficile Quest'uomo Ha vissuto Di due patrie Una di cui Era certo E sulla quale Poteva mettere La mano Che è Roma La protagonista Dei bellissimi Poetti Poetti Latini Del Pasco Bellissimi Perché sono I poemetti Non sono poemetti Sono short stories Sono racconti Pascoli Con grande Con grande Intelligenza Pesca dei dettagli Nella storia Di Roma Un dettaglio Una cosa sfuggita Una citazione E ci costruisce Sopra Una storia Un racconto Che ci lascia Che ci lascia Sterrefatti Perché Riconosciamo Lo storico E ci rendiamo conto Che non conosciamo Nulla dello storico Perché c'è un racconto Che c'è La morte di Giugurta In prigione È un capolavoro Assoluto Dunque Un giovane Che scrive Il latino Meglio dell'italiano Protagonista Di due patrie Una Nella quale Non fa che dire Presagendo Tutta la tematica Intellettuale Novecentesca Chi sono E la risposta Viene Dalle campane Le campane Mi dissero Chi ero È un cane Che la trava Al forestiero Che andava A Capuchino Quindi Una terra Desolata Dove Di cui Non si è Cittadini Questo Pasquale Lo dice Chi ero Le campane Mi disse I suoni Di chiesa Fiori Di maggio Le funzioni Religiose Una patria Di cui è Totalmente Insicuro Una patria Che non c'è Però che è presente E contemporanea E una patria Di cui è sicurissimo E certissimo Ma che non c'è Perché passata E antica Roma Questo è il Pascoli Latino E il Pascoli Italiano C'è una giunzione Tra Roma E il risorgimento Da cui Il Pascoli Era invasato L'Italia Risorgimentale Che il Pascoli Ha cantato Con lo schema Strofe Antistrofe E podo Di quel D'Annunzio Che lo faceva Tanto sospirare O che temeva Che D'Annunzio Avrebbe potuto Usare Prima di lui Come si lega Col Pascoli Che è sicuro Che ha la certezza Che si trova A suo agio Nella Roma Antica Perché il Pascoli Che parla Latino Non ha nulla Del piagnisteo E del vittimismo Del Pascoli Che parla Italiano Allora Questo paradosso La dice Lunga Sulla cultura Italiana Fraotto E Novecento E' il Pascoli Che ci ha trasmesso Questo problema E' il Pascoli Ahimè Che ci dice Chi siamo Questa è la ragione Per cui L'ho studiato Mi ringrazio Mi dispiace Ci ho parlato Un po' troppo Ma Io vorrei Che qualcuno Non so Mi dicesse Contestasse Qualcosa Vorrei dare A Magrini A Giacomo Ma che domanda Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Potrebbero servirti per dimostrare che hai ragione Allora Ora ciò Come si inseriscono i poemi conviviali In questo percorso che lei ha tracciato Della vita, della personalità, del Pascoli Attraverso le sue opere Grazie Dunque Secondo me i poemi conviviali Sono una delle tante raccolte pascoliane Che presentano una formazione In qualche modo paradossale Perché Pascoli cominciò a scrivere quelli che poi chiamò poemi conviviali Nel 1895 E I primi poemi conviviali Goge Magog E Alexandros E Tiberio Risalgono A progetti Che appartengono a quel periodo giovanile Di cui ho parlato Poc'anzi Vale a dire Risalgono addirittura Agli anni universitari Tra il 1877 E il 1879 Si ritrovano Negli appunti autografi Delle carte schinetti E di altri cartigli pascoliani Questi tre poemi conviviali Che sono Poemi storici Goge Magog Alexandros E Tiberio Si uniscono Nel senso della cronologia A Solon Che Fu il secondo Mi pare Che Secondo poema Che Pascoli mandò Al convivio del Debosis E di D'Annunzio E appartengono Tutti Agli anni E anche Ci aggiungo anche Il cieco di Chio Che È un È un testo Che appartiene Al 1897 Quindi I primi poemi Veri e propri Poemi conviviali Appartengono Alla fase Della crisi del nido E La crisi del nido È Chiaramente Leggibile In trasparenza In Solon E nel cieco di Chio Il cieco di Chio È la sola poesia Erotica Che Pascoli Abbia scritto Mentre Tutti gli altri Poemi conviviali Quelli che seguono E non sono pochi Vengono Dal 1900 in là La buona novella È del 1900 Tutti gli altri Sono addirittura Stati iscritti In prossimità Dell'edizione Nazionale Diciamo Così chiamiamo Nazionale Zanicheliana Del 1904 Tutti E da dove Nascono? Nascono Dalle Traduzioni Omeriche Di Sullimitare Vale a dire Il Pascoli Nel 1900 Perché Il Pascoli Ha sfasciato Il nido Ha Secondo Come poi Lui si è autoanalizzato E passato Dalla vita attiva Alla contemplativa E diventò Un lavoratore Indefesso Più o meno Dal 1898 In poi Quando andò a Messina E si capisce Perché Messina Rappresenta Anche un taglio Fisico Geografico Nei confronti Della vita Di prima E lo dice Pascoli Perché del 1900 Come lei mi insegna E c'è qualcosa di nuovo Oggi nel sole Io vivo Altrove L'Aquilone Quindi La memoria Nell'Aquilone Segnala Che Di quel tempo Non se ne parla più È un altro tempo Dunque I conviviali Che il Pascoli Ha scritto Nel 1904 E via Tra il 1902 Il 1904 Sono diversissimi Da quelli storici Del 1895 Il Pascoli Che è un Manipolatore Abilissimo È riuscito A fonderli insieme E a dare Ai conviviali Una patina Uniforme Ma non è così Non è così Ci sono due tempi Chiaramente Sono due scadenze Nella struttura E nella formazione Dei conviviali Di questo Io non ho potuto Smontare Anche i conviviali Perché I conviviali Sono stati Commentati Da uno Dei collaboratori Di questo Meridiano Quindi ho scritto Solo Una premessa Generale Ai conviviali Dove più o meno Dico Le stesse cose Che dice lei Bisogna aspettare Il commento Tante volte Preannunciato Dal Nava Il quale Forse Ci Anzi Ci dirà Senz'altro Delle Novità Che sia lei Sia io Ancora Ignoriamo Bruna Non hai niente Da chiedermi No Ti puoi immaginare Del Pasquale Insieme a te Ho più paura Ancora Che del Pasquale Da solo Cioè Siamo veramente Io Ho cominciato La traversata Ho cominciato La traversata Dei tuoi libri Dei tuoi due Meridiani Ma certamente Oltre a essere Un godimento estremo È anche una cosa Ardua E quindi Permettimi di tacere Di dire soltanto La mia ammirazione Ecco Del lavoro Che hai fatto Giacomo Non hai nulla Da chiedermi È sparito Eh? Hai da chiedermi Qualcosa Ma forse Se vieni qui È meglio Sì Siete qua Siete qua Riguarda L'inizio Della prefazione E cioè Il Il punto In cui fai Un po' La storia Della critica Pascoliana Diciamo Che Come Sappiamo Diciamo Si Si divide Grossomodo In due In due Tronconi Coincidenti Con Con le due Metà Del secolo Scorso Insomma E Quando arrivi a parlare Appunto Del Del Nuo avvio Della critica Pascoliana A partire Da Contini E quindi Anni 50 E tu fai Appunto Una Una caratterizzazione Di questo Nuovo Corso Diciamo Della critica Pascoliana Basandoti Soprattutto Sulla Diciamo Sia Sulla Sull'esplorazione Diciamo Dell'archivio Sia Sulla Messa in rilievo Dei valori Formali Senti Quello che dico Ho capito Fino Certo Ah L'ultima parte Dunque Sia Sull'esplorazione Dell'archivio Sia Sulla Messa In rilievo Dei valori Formali Ecco Ora A me Sembra Che questa Caratterizzazione Sia Diciamo Così Insufficiente Nel senso Che Di pari Passo Con La Messa In luce Dei valori Formali Di pari Passo Quindi Presupponendo Presupponendo Esse Ed essendo Esse Presupposta Andava Per così Dire Andato Il Quello che si Può definire Il Il lancio Del Pascoli In una Dimensione Europea Cioè In altre parole Contini Per primo Diciamo Almeno in modo Molto chiaro Ha fatto capire Con i suoi accostamenti Mettiamo a Wagner O a Stefan Gheorghe O altri Ha fatto capire Che bisognava Come dire Creare Degli spazi Delle radure Nella Nel cielo Plumbeo Diciamo Della provincia Pascoliana In cui Fino a quel momento Era stato Tenuto O nella selva Altrettanto Intricata Della provincia E Appunto Sulla scia Di questo Di quel famoso Saggio Si è avviata Diciamo La critica Pascoliana Che ha Per così dire Tenuto Campo Fino A mio parere Fino al tuo libro Nel senso Che Da allora in poi Appunto Questo Povero Pascoli Cioè Questo Goffo Corpo Provinciale Diciamo E' stato spinto Sempre più Verso I sceli Diciamo così Indifferenti Per dirla Come allarme Del Simbolismo Internazionale Ora Questo Appunto E' quello Che Manca A mio parere Nella tua breve Esposizione Della Critica Pascoliana Però Non Penso Che sia Tanto Un difetto Quanto Una Necessità Nel senso Che Tutta Tutto il tuo Lavoro Consiste Nel Invertire Questa Invertire La direzione Di marcia Di questa Della critica Del secondo Novecento Che ha prodotto Anche Diciamo Delle Delle cose Anche buffe Diciamo Anche Improbabili Se ne Possono Ricordare Tante Insomma Cioè Pascoli Ormai Per tutti Questi anni È stato Visto Come Ora Come Malarmé Ora Come Che so Come Sossur Ora Come Freud E via Dicendo Nel senso Degli anticipi Delle Corrispondenze Delle Prefigurazioni E Via Dicendo Invece Il fatto È che Appunto Non è Non è stato Così Non è stato Così Perché Il Le novità Diciamo Della Della Cultura Pascoliana Non sono E quindi Il Pasquale Non deve essere Come dire Aggiornato Continuamente Registrato Sull'orologio Diciamo Della Del cielo Simbolitico Internazionale Della cultura Internazionale Della bosia Internazionale Ma deve essere Riportato Riportato A essere Quel Goffo Corpo Provinciale Che era Ora uno Penserebbe Ma questa Non è appunto Un Tornare indietro Voglio dire Il tuo lavoro Rispetto Al lavoro Svolto Da 50 In 50 anni Da Da tanti Specialisti Da tanti Studiosi Eccetera Apparentemente Sì Se appunto Se uno si pone La domanda In questo modo In realtà Io credo Di no O non del tutto Credo di no Per un motivo E cioè Che In realtà Il tuo lavoro Presuppone E tiene conto Diciamo Per quanto Ho potuto vedere Nella sua Massima estensione Dei risultati Di questa Della critica Della migliore critica Pasqualiana Del novecento Della seconda Metà del novecento Però Non cede mai Per così dire Se non in forme Del tutto diverse Da quelle Esperite Fino a questo momento Poi naturalmente Le cose Anche dopo il tuo libro Possono continuare identiche Non cede mai A questo Come dire A questo ricatto Chiamiamolo così Del Del tema internazionale Sul tema provinciale Ecco Il Il punto Secondo me È questo Il tuo libro E questo mi pare La qualità essenziale Del tuo lavoro È riuscito A non Seguire Diciamo Questa Corrente Per cui Pasquali Viene sempre È stato Diciamo Continuamente Avanzato Spinto Paragonato Equiparato A esperienze Di punta Ecco Il tuo lavoro Non concede quasi nulla A questo tipo Di Trattamento Diciamo Del Del fenomeno Pasquali D'altra parte Però Chi Legge il tuo lavoro Non ha per niente L'impressione Che ci sia Una regressione A una considerazione Di pasquali Prima Del lavoro Svolto negli ultimi 50 anni Ecco Questa è L'impressione Complessiva Che io ho Del tuo lavoro Cioè No Cioè Ah ecco Da una parte Non è un pasquali Internazionale Giusto Ecco Dall'altra però Non è un pasquali Provinciale Precedente La sua Internazionalizzazione Non è un pasquali Provinciale Nel senso Di prima Di quando è diventato Internazionale Comunque Dunque In proposito Sì Su questo Dunque Io vorrei dire Che Vorrei risponderti No Forse No Perché forse No Vorrei risponderti Con Luzi Una volta Fu chiesto Luzi Durante un convegno Una volta Fu chiesto Luzi Se Secondo Lui Pascoli Era o non era Un poeta simbolista Nota che La richiesta Era diretta Alla Personalità Culturale Più Indiziata Di rapporti Col simbolismo Cioè Luzi E Luzi Rispose Secondo me In termini Molto Molto Credibili Vale a dire Disse In Pascoli Regna Il simbolismo Però Non Quello che si è costituito Storicamente Oltre Alpe Tra l'Otto e il Novecento E soprattutto Alla fine Dell'Ottocento Perché Il simbolismo Pascoliano È di natura Assolutamente Diversa Questo Secondo me È una proposizione Che faccio mia Non è del tutto vero Poi che io Non prenda in considerazione Questa cosa Per esempio Per esempio Io qua Cosa dico Mi pare Che dico Chiaramente Che È un problema Che Mi interessa Fino a un certo punto Ecco Dunque Il curatore Di questo libro I curatori Sono quattro Ma il colpevole Uno solo Si dimostra Non è molto Propenso A trattare Problemi Critici Generali Si dimostra Poco sensibile Per esempio Al bisogno Di catalogare O di collocare Giovanni Pascoli Nella cultura Del suo tempo Come si diceva Una volta E come si usa Negli schedari E manuali E' anche Poco interessato Il curatore Di questo libro Al problema Se il Pascoli Sia poeta Classico O alessandrino Rivoluzionario O conservatore Visionario O naturalista Simbolista O impressionista E anche Ad appurare Il pozziente Eccetera Eccetera Quindi Io dichiaro Che Sì Questa non è Un'interesse A proposito Della Annessione Della Delle forme Pascoliane Al simbolismo Esperita Da Contini Dunque In primo luogo Va detto Che Il richiamo A Wagner E' un richiamo Che Contini Fa molto Impassant Molto Impassant E giustamente Secondo me Senza dargli Alcun rilievo Perché Wagner Il Wagnerismo Era una moneta Corrente Basta pensare Al fuoco Di D'Annunzio Quindi Bah Insomma E' una di quelle E io Sinceramente Credo che Pascoli Il quale di musica Ne masticava Pochissimo Nonostante Le sue grandi Capacità musicali Sotto il profilo Il codice poetico Ma Sai Pascoli Era uno Che si inebriava A A sentire I crescenti Di Rossini Insomma Quindi Io ho l'impressione Che Che Bah Di Wagner Di Wagner Come dire Assimilato Sotto un profilo Culturale A un certo livello A una certa qualità Non si possa parlare Inoltre Io Forse Qualche cosa Sul tema Che tu Hai trattato Ecco Vedi Nella Io ne parlo A proposito Delle rane Della premessa Alle rane Che Mi ha dato Come dire Mi ha permesso Ma dove sta Questa Non trovo E ecco Ritorno Sommato Eccolo qua L'era 1948 In sostanza Io che cosa vorrei dirti Ma in Pascoli Non c'è nulla Che non sia simbolo In Pascoli Tutto è simbolo Non esiste Una Un incontro Che lui Faccia con la realtà Senza Vivere simbolicamente Ma questo Ma questo non vuol dire Essere un poeta simbolista Non è la stessa Vocazione E non credo Perché il simbolismo Di Mallarmé È un simbolismo Premeditatamente Perseguito Mentre Pascoli Non lo persegue L'intenzione di Pascoli Non è che Scusa Io Quello che volevo dire Forse non mi sono spiegato bene Non mi hai capito La mia osservazione Voleva essere Positiva Non negativa Non era una critica No no ma Vabbè Cioè volevo dire Che il fatto di non Continuare a insistere Ma io non l'ho presa come negativa No no Mi spiego meglio Il fatto di non voler continuare a insistere Diciamo Sulla Equiparazione di Pascoli Ad altri artisti Ad altri scrittori Della sua epoca Fuori d'Italia È secondo me Un dato molto positivo Perché Questa equiperazione Ha portato A delle Conseguenze Che hanno anche Del grottesco Addirittura Mi viene un esempio In mente Non so Quando Un ottimo studioso Del Pascoli Come Traina Non so Nella Prefazione Al poemetto Iugurta Dice che Pascoli Per esempio Anticipa In qualche modo Quello che succederà Poi ad Auschwitz Che succederà Ad Auschwitz Ma va bene Queste sono cose Significative Significative di questo Non tanto Di un entusiasmo Personale Dello studioso Nei confronti Del poemetto Che sta studiando Dell'autore Che studia Ma Secondo me Mi chiedo Mi chiedo Qual è Il segreto Per cui Il modo In cui Questo è avvenuto Perché D'altra parte Non è che Decidi Di Come dire Azzerare Quello che è stato Il lavoro Svolto Su Pascoli Negli ultimi 50 anni Anzi Ne tieni Molto conto Ecco Io credo Io ho una risposta Diciamo Da parte mia Cioè Proprio questo Insistere Sul nido E Un nido Che Come ci hai spiegato Nella Lezione di oggi Non è Il nido Originario Ma Il secondo nido Quello Costruito da Pascoli Ecco Penso che sia il nido La chiave di volta Di nuovo Di questa Di questa Finta regressione Alla provincia Cioè In altre parole Il nido Non è la provincia Il nido È qualcosa Che è Al di qua Della provincia E quindi Che può essere anche Al di là Della provincia Quindi il Pascoli È un poeta Diciamo Moderno Non perché Può essere Avvicinato A Mallarmé O a Freud O Non so A Proust Qualche Proustismo Forse c'è anche Nel tuo libro Ma è un poeta Moderno Perché Come dire Ha lavorato All'interno Della sua provincia In un modo tale Che Se ne è liberato Da solo Per così dire Ecco Ed il nido È Questo Questo luogo Della liberazione Dalla provincia Sì Non so se di liberazione Però io concordo Pienamente Con questo Sì Anzi ora Vorrei leggere Questo passo Sulle rane Io posso formulare Mi pare Di essere d'accordo Perché io Formulerei Quello che tu mi dici Con un enunciato Molto stringente Se Pascoli Fosse Come E questo Un po' Me lo dici tu Diciamo Se Pascoli Fosse Quel poeta Congetturato Da una Filone Di critica Chiamiamola Post Continiana Cioè Un poeta Riconducibile All'area Del simbolismo Europeo Così come Il simbolismo Europeo Si è Costituito Nelle voci Che gli appartengono Improprio Soprattutto Mallarmé Pascoli Sarebbe Un poeta Mediocre Invece Non è Assolutamente Questo Pascoli Non è Provinciale Proprio Perché Non è Riconducibile All'area Del simbolismo Europeo È Un fenomeno Paradossale È Un fenomeno Tipicamente Italiano Che Ricondotto A modelli Europei Come È vero Che un po' Si tende a fare Ora Nei commenti Secondo me Perde tutto Il suo sapore Che Diventa L'epigono Di una Di una Area poetica Fantasma Perché Non c'è I Pascoli Io volevo Leggerti Questa Questo Accenno Io torno a posto Perché Come Torno là Perché ho Sì No Comunque Volevo leggere Questo Molto rapidamente 1248 1248 1248 1248 1248 Casa mia Ecco Le rane Dunque Senti Scusa Ecco A proposito Delle rane Ecco Dunque Vedi Ecco Il fracasso Del treno Mezzo Immaginario E mezzo Reale Che attraversa Il testo Delle rane Come Un'emicrania Intollerabile Può Può Definirsi Un massimo Di Ribellione Sintomo Tra i più acuti Di sofferenza Giunta al grado Del Non ne posso Più Il male Tuttavia Un po' Più In là Del Singhiozzo Del Chiù O Del Latrato Del Cane Di Patria Nasce Già Riassorbito Nella Suavità Ipocrita Di un sistema Che non ammette Infrazioni A pochi Centimetri Dal punto In cui potrebbe Verificarsi L'éclairage Non si manifesta Nei primi anni Del novecento Riviera Impiegò Parecchio Tempo Ad accorgersi Che ciò Che lo affascinava In Rimbaud Non era Solo La capacità Istantanea Di Depasser Le reelle E Il Trouble Che un Certo Rimbaud Gli dava Di sentirsi Brusquement Aiole Di essere Depistato Altrove A un tratto Riviera Capì Che Rimbaud Era L'homme Che Le premier Ha senti Qu'il Y Y Ave Un Autre Pesaggio Corrispondant All'impression Vertigineuse Qu'il Ave D'un Matinet D'été Cioè La mattina Delle Rane I Sogni Di un D'estate Pascoliani Si fermano Prima Di questa Intensità E Non La cercano Il Paesaggio Altro Ma c'è Qualcosa Di terribile Nel Simbolismo Delle Rane Ma se c'è Qualcosa Di terribile Nel Simbolismo Delle Rane È Proprio La mancanza D'illuminazione Nel momento In cui La si Aspetta Questo È Secondo Me Quello Che Tu Chiami Chi Chi è Colui Che Scrive Le Rane L'Io Che Si Racconta Nelle Rane È Un Altro Ma In termini Così Vischiosi Da non Essere Visitato Dal più Lontano Sospetto Di celebrare Un rapporto Di Estraneità Con Se stesso Come Avviene In Rebo Questa Secondo Me È In Qualche Modo Riportabile A Quello Che Mi Hai Fatto Osservare Poco Fa O No Va Beh C'è Un'altra Domanda Sono Io Grazie 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 a tutti